grazie dottor case si accomodi grazie il dottor zimski ci ha informato che lei ha dato un contributo prezioso alle sue indagini così ha voluto che lei partecipasse a questa riunione molto generoso da parte sua dottore la scienza è abnegazione caro ragazzo ora perché non comincia io subentrerò nei punti critici d'accordo cercherò di dirlo nel modo più semplice saremo tutti morti entro un anno e ora vi spiego perché la terra è avvolta in un campo di energia invisibile essendo fatto di elettricità e magnetismo è stato chiamato con poca fantasia campo elettromagnetico ci da il polo nord e il polo sud magnetici ci protegge dalle radiazioni cosmiche quindi questo campo elettromagnetico è il nostro amico ma ora ma ora quel campo sta collassando perché perché avete uno spray per l'ambiente allora in parole semplici la buccia è la crosta terrestre quella su cui viviamo è spessa 30 miglia la polpa si chiama mantello lasciando da parte le varie transizioni è spessa circa duemila miglia il nucleo è il nocciolo al centro esso è diviso in due parti il nucleo interno e il nucleo esterno mi state seguendo il nucleo interno è un grosso blocco solido di ferro si pensa ed è circondato dal nucleo esterno che è liquido sì ma cosa più importante questo liquido gira vorticosamente in una direzione un trilione di trilioni di tonnellate di metallo bollente che girano a mille miglia l'ora prego fondamenti di fisica il metallo muovendo si crea un campo elettromagnetico il nucleo esterno che gira è il motore che alimenta il campo elettromagnetico ed è qui che c'è il problema questo motore si è fermato il nucleo della terra ha smesso di girare come può essere successo non lo sappiamo quanto tempo abbiamo via via che il campo elettromagnetico diventa più instabile accadranno incidenti isolati cadrà un aereo poi due e nel giro di pochi mesi tutti gli strumenti elettronici saranno fuori gioco le scariche elettrostatiche nell'atmosfera creeranno super tempeste con centinaia di fulmini per miglio quadrato dopo si metterà male il campo elettromagnetico ci ripara dai venti solari che sono una miscela letale di particelle e microonde radioattive quando quello scudo collasserà la radiazione delle microonde finirà letteralmente per cuocere il nostro pianeta dottor zimischi questo è il sole questa è la terra senza campo elettromagnetico le dispiace tre mesi signori e torniamo all'età della pietra entro un anno il campo collassa e poi quello scusi potete anche vomitare io l'ho già fatto il nucleo si può rimettere in moto non si può non è nel mio vocabolario è meglio che se ne compri uno nuovo generale perché è impossibile il nucleo è come marte si tratterebbe di far ripartire il motore del pianeta c'è un iperfluido incandescente di metallo fuso ferro e nichel a 9.000 gradi fahrenheit a 2.000 miglia di profondità spesso mille miglia la massima profondità mai raggiunta è 7 miglia con trivella da due se possiamo andare nello spazio lo spazio è facile è vuoto stiamo parlando di milioni di libri di pressione per pollice quadrato anche scogitando un piano geniale per far ripartire il nucleo non potremmo mai raggiungerlo sì ma se potessimo